Ciao a tutti amici e benvenuti nel mondo di maffi Oggi, al contrario di tutti gli altri che stanno facendo i video, io ho ricevuto un nuovo piccolo Non come quelli grandi che ci sono i video di 10 kg No, che poi vi cadono i denti, io ce l'ho piccolo Guardate che piccolino ed è con riso soffiato Ora lo apro Tutto con le macchioline degli cereali E come lo apriamo? No, lo voglio aprire e come si rompe Lo apro e si rompe Si è aperto Guardate, guardate come si è dentro Speriamo la sorpresa Buono E' tutto con i cereali Mi si sono sciupati Ma che sorpresa E' un attrezzo? E' un attrezzo Ragazzi, un attrezzo Ma che me ne faccio io? E' un giravite di gomma E cosa si fa? Si cancella? Si possono cancellare le cose? Vabbè, è utile Un giravite di gomma Va bene, grazie L'importante è che l'uovo è buono Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.